S.P.Q.R. A Roma la scritta è ovunque, su monumenti, fontanelle, autobus, tombini. L'acronimo di Senatus Populusque Romanus, ovvero i Patrizia e i Playbay, le due classi su cui era basato il governo della città, è stato storpiato in sono porci questi romani. Ma i turisti stranieri lo sanno? S.P.Q.R.? Oh, lo sapevo. Senatus Populusque Romanus. Ma significa anche Romani sono porci. Romani sono porci. Porci. Oh, ok. Ok. Roma è bella, bellissima, ma piena di zozzoni. Siamo andati a scovarli. Quei secchi della spazzatura che stanno lì davanti, c'è anche una sedia di plastica. Sono vostre? No. Venga a vedere, venga. I giovanotti destra, Roma bella. E li faccia vedere all'arancia. Ecco, questa, aarancia. Come si chiama? Eh, guarda, faglielo vedere che c'è qui. Quindi non è sua questa sedia? No, non è mia. Questa è dello stadio, di questi qui. Chi sono? È la chiesa, i preti. Preti o laici, non importa. La nostra opera moralizzatrice non risparmia nessuno. Scusi, ma l'ha buttata lei la buccia di banana che sta qui dietro? No. Sicuro? Io non mangio banana. No, io no. Ma l'ha buttata lei questo cassetto? No. Io. No, no, no. Io l'ho vista che la stava buttando. L'ho vista. Ma io vengo da lavoro. Bene. Il vento passa dentro e sempre fuma. Ma ho visto che ha buttato la cicca per terra. Io ho buttato la cicca per terra? Sì, tu non l'ha. Non me la so nemmeno le seconda. Ma là c'è il portacenere. Ah, non me la so nemmeno le seconda. Guardi, io devo andare a lavorare. Scusi. Ma l'hai lasciato tu questo bicchiere qua? Il vento passa dentro. Guarda che t'ho visto. No, non sono io. Ma lo sai che non bisogna lasciare i bicchieri per strada così? Mia madre me lo dice sempre. Mi piace perché ti fa le domande che ti, proprio di me, abbrusciapena.